Arriva il forte vento di Ponente e all'Elba scatta l'emergenza incendi. Ben tre focolai contemporaneamente sono scoppiati sul territorio dell'isola subito dopo la prevista ventolata annunciata dal meteo per le prime ore di questo pomeriggio. Erano da poco passate le 14 quando allo schiopparello è scattato l'allarme. Fortunatamente il tempestivo intervento dei vigili del fuoco e della protezione civile della misericordia di Portoazzurro riusciva a circoscrivere un incendio scoppiato in un canneto che veniva estinto dopo aver bruciato qualche centinaio di metri quadrati di macchia. Contemporaneamente alla cona il fuoco provocava l'intervento delle squadre antincendio della forestale dei vigili del fuoco e della protezione civile in prossimità della deviazione stradale che porta a Colle Reciso. Fiamme ben presto domate con circa un ettaro di cespugliato andato in fumo. Molto più complessa la situazione a Rioelba dove le fiamme sono divampate sul monte Capannello in località La Croce nei pressi della parte alta del vecchio abitato del paese. Qui il vento ha spinto da qualche minuto dopo le 14 le fiamme che si sono avvicinate all'abitato del Buchino. Intervenuta l'Enel per la caduta di una linea elettrica di alta tensione oltre alle squadre di forestale vigili del fuoco, protezione civile e forze dell'ordine. Allertato anche l'elicottero antincendi della regione toscana seguito poco dopo da quello antincendi di stanza a Grosseto. Due ore di duro lavoro che hanno portato fortunatamente allo spegnimento dell'incendio poco dopo le 16. Probabile in questo caso che le fiamme siano state causate dalla caduta a terra della linea da 15.000 volts causata dal vento. Sulle cause di tutte e tre gli incendi comunque, domati in maniera esemplare dalle squadre antincendi e il Bane, indagano i tecnici del Corpo Forestale dello Stato e le forze dell'ordine.